Si vede che ti vuole bene Siamo carichi? Sì, di roba sicuramente E ancora siamo a metà Per cosa stiamo partendo? Eh, lo diciamo dopo Ah, lo diciamo a metà video Quando arriviamo al punto clou del video Siamo partiti e piove Eh, ma viaggio bagnato, viaggio fortunato Con te accanto? Sì Non lo so Ti portarò a sale Primo pit stop Siamo solo a Bari Cioè non siamo neanche usciti dalla Puglia, capito? Sono passate otto ore Andiamo a fare pipì Dottoressa Johnson per il prigioniero 17, prego Dottoressa Johnson Adesso non c'è più Non so come gli spari Questa strada è infinita Siamo neanche a metà Buon appetito Cosa non sta di là? Insalata Insalata Allora Menù C'hanno più olio e queste verdure delle due patatine Ci sarà il sale? C'è stato un piccolo salto temporale Siamo arrivati a Roma Ci siamo riposati un attimo E ora palestra Oggi farò stacco e dorso Quindi vado a combinare come sempre l'allenamento powerlifting Con l'allenamento classico diciamo da bodybuilding Ce l'alleneremo prima con il team di powerlifting E poi in sala Non so se riuscirò a farvi vedere qualcosa Ma ci provo Cos'è che devi fare? 3 serie Da 3 ripetizioni con il mio 75% Calcolato su 100 kg di massimale Quindi 75 kg 3 per cento Carica eh Spingi con le gambe Devi andare lenta Con calma Vai avanti al bilanciere Avanti Avanti No amore Schiacciali dietro Avanti Avanti Al bilanciere Poi schiaccia indietro Vai schiaccia indietro Schiaccia Vai Ok Già meglio Devi abbassarti un po' di più Allora Come prima Devi solo arrivare A caricare con le gambe Ci metti un po' Ma devi essere paziente Senti quando si attivano le gambe Dai Avanti Apriti Schiaccia E vai indietro 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 Qua vai Senti le gambe Continuamente Che spingono Vai vai Schiaccia Schiaccia Vai Piedi 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 Non sei pronta Di fare 90 kg Per uno Vai Prima serie Ci sei? Uguale a prima Caricati Non pensare al peso Avanti Schiaccia Vai indietro Indietro Spingi Spingi con tutte le stesse Spingi 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 Buono Perfetta Brava 95 13 Mi raccomando Vai 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 Spingi 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 Attacca qualcosa Che hai fatto No Committee Spingi 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 ferma, ferma lì, ferma lì, ferma a posto ma serio? un goccettino, ma per male quindi buongiorno, è martedì dopo l'allenamento di ieri praticamente siamo tornati a casa, abbiamo mangiato e io sono corollatissima, infatti questa mattina sto recuperando un po' di lavoro prima però stavo facendo colazione mi è preso un po' tardi stamattina e siccome mi sono arrivati i nuovi biscotti di MyProtein, i nuovi biscotti ripieni non potete capire questa è la storia, cioè sono proprio ripieni di caramello vi devo assaggiare anche qui e i macros non sono male 260 calorie 10 grammi, 29 carboidrati di cui 0,9 di zuccheri quindi proprio pochissimo 5 di fibre, quindi neanche una cosa esagerata e 20 di proteine come colazione per oggi va benissimo nel frattempo vi aggiorno anche che ci sono un po' di sconti sul sito di MyProtein vi lascio ovviamente come sempre i link in descrizione finiamo di lavorare andiamo a fare un giretto al parco così portiamo a spasso il cane che dovrebbe essere lì e poi questa sera come sempre palestra quindi ci rivediamo dopo durante la giornata cripto cripto mattinata appunto al parco per girarvi un circuito che troverete presto sul canale ora torniamo a casa andiamo a mangiare e a pomeriggio palestra saluta e per pronto sto riscaldando riso e pollo presi da fit food rubato a me ovviamente rubato a te quindi ho tagliato il pollo a pezzettini mischiato nel riso e poi ci annegherò un po' di ketchup mi piace il ketchup fit food è un'azienda che da poco tempo spedisce i pasti pronti in tutta Italia quindi non solo su Milano infatti io e Giovanni abbiamo iniziato a collaborare con loro ancora prima di sapere di doversi trasferire ops forse ho detto qualcosa quindi abbiamo iniziato a collaborare con loro questo è l'ultimo passo poi dopo faremo altri ordini ovviamente perché sono soluzioni appunto dell'ultimo minuto molto molto facili da usare convenienti veloci e ottime anche come gusto e lui si mangia a pizzetta la pizza più buona a Roma cioè ditemi voi ma vai a assaggiare un pezzettino ok un assaggio alla pizza più buona di Roma vai buonina com'è buonina? buonina è molto buonina pollo è riso dici che non entra questo coso qua dentro dico di no ma secondo te siamo pieni? allora ora vi illustro quello che andrete a vedere in questo viaggio tante borse tantissime borse un quadro non chiedetevi perché ma questo coso oltre ad essere molto spazioso impedisce la visuale di andare indietro con il sito vieni vieni questo è l'altro lato bene e ora vi faccio vedere come guiderà Giovanni Foix facciamo che guido io no facciamo che non puoi mi fai entrare? oh signor il mio spazio buon viaggio buon viaggio chi guida? cammino da solo mi sposto mi sposto sbagliati ci vuole calma è sangue e freddo tanto 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 oh no dio guarda che ricaccione Buongiorno Che stai facendo? Sento squat Devo riattivare la circolazione Madonna Alla fine non abbiamo fatto pause Siamo arrivati molto in orario Spamando un sacco di tempo E pagando un sacco di multe probabilmente Però tra 20 minuti siamo a casa Ok avrei dovuto mostrarvi l'arrivo a casa La prima spesa eccetera Ma guardate la situazione Ora batteria scarica Stiamo per pranzare Ok devo ammettere che prometto che ci saranno cene più elaborate Però per questo primo giorno E con quel casino Abbiamo del misero tacchino Con delle carotine E una zuppa di verdure e finocchio Io volevo andare al sushi stasera Non so se mi piace questa zuppa di verdura con finocchio Ma è quasi fresca in realtà Ha in realtà dei valori super ottimi Perché ha 28 calorie su 100 grammi Con 1,5 di grassi 1,5 di carbo 2,4 di fibre E 0,8 di pro Quindi in realtà Cioè è davvero come mangiare acqua Con un po' di parmigiano forse sarebbe stata meglio Ok è ufficialmente iniziata la nostra prima vera settimana Qui a Milano Allora due cose importantissime Una ringrazio tantissimo tutte voi perché se oggi sono arrivata fin qui E anche grazie a voi Voi che mi seguite qui su YouTube ormai da quasi tre anni Tutte coloro che mi seguono anche su Instagram Siamo davvero tantissimi Quasi 50.000 Vi ringrazio E due è che se siamo qui a Milano insieme a Giovanni Perché abbiamo in mente un progetto davvero grande Che coinvolgerà anche voi Soprattutto voi che siete in zona Milano Coinvolgerà noi E tutto quanto Quindi non vedo l'ora di farvelo scoprire Si tratta ovviamente di un progetto legato al fitness Al nostro allenamento Al vostro allenamento Al powerlifting Ci saranno tantissime novità Quindi non vedo l'ora di farvele vedere sul canale Ovviamente continuate a seguirmi qui su YouTube Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale Lasciatemi un piccolo like E un commento che ovviamente mi fa tanto piacere E sono tanto importanti per me Se non mi seguite su Instagram Vi lascio il mio nome esattamente qui Mi chiamo Valeri Fitness Io vi mando un grosso bacio Io Giovanni vi ringraziamo tantissimo E ci vediamo alla prossima Ciao ciao